Iessica Cermiglia non fa sconti, le canne, Francesco Montevas qualificato. Isola dei famosi 2018 nella dufera per lo scandalo droga, che sta scatenando un vespaio di polemiche critiche in rete. Jessica Cermiglia è tornata all'attacco di Francesco Monte per lo scandalo droga all'isola dei famosi 2018. Molti di voi si staranno domandando, chi è Jessica Cermiglia? Lei è la nuova corteggiatrice del trono classico di uomini e donne e in passato sarebbe stata la presunta amante dell'attuale naufrago VIP Tarantino dell'isola dei famosi, quando quest'ultimo era legato sentimentalmente a Teresanna Pugliese. Su Twitter, Facebook e Instagram non si parla d'altro, ma anche nei diversi salotti tv targati Mediaset la probabile squalifica dell'extrolista Francesco Monte scatena una raffica di reazioni e polemiche. Il popolo della rete è staccato in due. Dopo le foto e il video in cui suo fratello, Stefano Monte, fuma una sigaretta, o canna, come sostengono alcuni, oggi Jessica Cermiglia è tornata a chiedere la squalifica di Francesco Monte durante un'intervista rilasciata a Bicifit. Jessica vuole la squalifica di Francesco. L'attuale corteggiatrice del tronista campano Mariano Catanzaro è stata piuttosto determinata e schietta nel chiedere l'immediata squalifica del suo presunto ex amante, in quanto le canne e le droghe non devono e non possono essere un esempio televisivo. Jessica Cermiglia poi ha aggiunto, va bene che gli hanno fatto passare il fatto, che ha tradito Teresanna, ma anche questa, spero di no. Ha lodato la scelta di Cecilia Rodriguez, che ha scaricato Francesco Monte per Ignazio Moser durante il Grande Fratello Vite 2017, perché si è liberata di un macigno e ha svelato un dettaglio intimo su quella presunta notte di amore trascorsa con l'ex tronista pugliese diversi anni fa. Lui è una statua, non è per niente passionale. Per farti capire ti dico che di uomo del sud non ha proprio nulla. Intanto Mercedes e Devenger dell'isola dei famosi 2018 sperano, che vengano presi seri provvedimenti nei confronti di Monte. Anche i giornalisti Alfonso Signorini, Alberto D'Angolo e Riccardo Signoretti hanno invocato il pugno duro di Mediaset contro Monte. Il movimento italiano dei genitori, Moig, ha denunciato l'accaduto all'ambasciata onduregna e ora in base alle leggi locali, l'ex compagno di Cecilia Rodriguez rischia 12 anni di carcere per possesso e consumo di Mariana. Nadia Rinaldi fa a pezzi Monte. Anche l'attrice Nadia Rinaldi si è scagliato contro Francesco Monte durante una chiacchierata con Amauris Perez sull'isola. Lei è in nominazione insieme con l'ex tronista del trono classico di uomini e donne Rosa Perrotta e l'ex concorrente maggiorata e rifatta del grande fratello Francesca Cipriani. Nadia Rinaldi non ha digerito la nominazione subita del modello Tarantino. Francesco avrà tempo di crescere, ha attaccato Nadia, posso avere l'età di sua madre, mi dispiace che non c'è più e che gli venga in sogno per dire, bello di mamma mi sa che non ti stai comportando tanto bene. I fan dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sono su tutte le furie e stanno criticando Nadia Rinaldi sui social per aver citato impropriamente la mamma di Monte, scomparsa diversi anni fa. Ma l'attenzione di tutti i telespettatori della reality show di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi con Daniele Bossari e Mara Venier nel ruolo di opinionisti fissi, è concentrata sulla decisione finale di Mediaset, dopo tutte queste polemiche e ferocicritiche per lo sdoganamento della droga in tv, Francesco Monte verrà squalificato, lo sapremo durante la terza puntata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!